si combatte anche per il titolo di montagna qui eh belli siete questo deve fare un attacco no affatto no ci ha metto tutto bene ma però fa bene è un maledetto sto movimento tocca a studiare è un fai dell'ao io non ce la rispondiamo ha derpato malissimo e l'abbiamo occupata che abbiamo detto può fare sempre male l'ha fatto fidare ma l'aveva mai sbagliato bello bello cattiveria questa giuba poco deciso ben bello bello Grazie a tutti. Grazie a tutti.